ragazzi vi ho fatto ora il video per farvi vedere quel bel faccione di quel signore del nuovo bullo 2021 che ovviamente scrive quei messaggi social ma la cosa prosegue scelto vi faccio vedere ora nel video dove io ho messo il suo bel faccione perché poi funziona così vi faccio vedere lui cosa sta scrivendo che è ancora meglio del commento di prima scelto e poi dico una cosa al signore allora come vedete lui appena vede il video mi dice merda leva sta foto significa merda leva questa foto io gli scrivo in dialetto siciliano scordatelo e lui nalevi apposto tra virgolette è una minaccia significa non la togli va bene io rido e gli dico insegnite educazioni prima significa impara l'educazione prima lui mi scrive cosupesso che significa cosa inutile e io ho detto ti brucia arrangiati adesso che vedranno tutti la tua faccia di bip ma continua aspettate scelto arrivo qua adesso mi scrive invece io ti rugno un altro tipo di calippo sussispetto e capisci muoviti a togliere questa foto nel senso io ti do un altro tipo di calippo se sei furbo e capisci muoviti a togliere questa foto e io gli rispondo che sono furbo lo so forse sei tu che non sai che io sono furbo ora sparisci da qui e stati zitto e lui mi scrive a posto ora tacciavo chi ci vuole nel senso va bene ora ti trovo cosa ci vuole ora volevo dire carissimo e gentilissimo signore soprattutto l'ultimo messaggio che è scritto che io ho tutto fotografato scelto equivale a una minaccia o un avvertimento perché purtroppo se è una minaccia adesso sarai perseguibile legalmente io te lo dico anzi ti sto avvisando d'amico smettila qui perché se no i miei legali purtroppo agiranno perché se minacce spicciole non fai spaventare nessuno certo e comunque per chi ha detto il ddl zan il ddl zan il ddl zan a questo serve il ddl zan ad eliminare queste mele marce dai social per esempio buona serata a tutti ciao bello ciao